amici di milan.soccer eccoci di nuovo insieme un'altra giornata rossonera da trascorrere in compagnia tra di noi ben ritornati per chi frequenta il canale benvenuto chi è nuovo vi ricordo come sempre di iscrivervi fatelo è gratuito ed è un gesto che a noi ci aiuta tantissimo ripeto è gratuito come un like un pollicione a questo video grazie davvero a tutti e se vi va link in descrizione il nostro sito www.milan.soccer allora io ho ripreso un attimo diciamo così ho rivisto più che altro la conferenza stampa di ieri è un punto di partenza senza dubbio per questa nuova avventura che non abbiamo idea di quanto possa durare però un'indicazione ce l'abbiamo ora ne parliamo approfonditamente dunque quando è iniziata la conferenza stampa ieri beh diciamo che è stata introdotta da pierdonato vercellone che il capo ufficio stampa capo ufficio comunicazione del milan che ha introdotto dicendo siete contenti di rivederci il tono mi sapeva di presa in giro comunque direi di sì no è un po di tempo che non ci parliamo esatto e quindi ora ricominciamo questo dialogo questa è stata diciamo così un po l'introduzione e poi è stato introdotto slatan ibraimovic che è stato diciamo intervistato ha detto diverse cose alcune le abbiamo già commentate altre invece sono ancora da commentare da capire da diciamo così entrare un po più nel dettaglio si è parlato tanto del futuro futuro del futuro ma poco del presente perché le ho contate le volte in cui ibraimovic ha detto beh non dobbiamo pensare solo al presente dobbiamo pensare al futuro cioè un progetto a lungo termine e poi ancora obiettivo minimo e la seconda stella così viene chiesto da un giornalista la risposta è per la terza volta è un progetto a lungo termine noi siamo vincenti pensiamo sempre di dover vincere qualcuno ha detto sì ma per vincere occorrono i calciatori e allora tra un'incomprensione linguistica e un minimo di furbizia che dopo sei mesi da dirigente chiamiamolo dirigente anche se lui si definisce partner operativo di red capital partner oltre che senior advisor della proprietà redbird per l'investimento a c milan un ruolo complicato per cui diciamo che tra l'altro erano presenti anche furlani moncadà insomma c'erano un po tutti però è stato un ibraimovic show dicevo tra un'incomprensione linguistica e un minimo di esperienza acquisita in questi sei mesi da dirigente chiamiamolo dirigente in questo senso lui dice mi sono già venuti i primi capelli bianchi ma è un po' più complicato che scendere in campo gestire un gruppo un tifo e una proprietà che in questo momento non vanno particolarmente d'accordo alcune domande me le sono segnate per esempio questo che tipo di mercato sarà e ancora ibraimovic mette un po le mani avanti dicendo beh l'anno scorso c'è stato un gran mercato 12 giocatori nuovi questo sarà un mercato dei dettagli quindi bisognerà capire che si intende per mercato dei dettagli perché per fare salto di qualità se metti tre giocatori come dire di un certo tono beh allora forse ma le premesse non ci sono neppure per questo e poi ancora qualche indicazione qualche piccolo mal di pancia relativamente al fatto che con pioli la difesa beh non fosse davvero quella che ci si aspettava e allora aspettiamoci un calcio diverso lo dice ibra aspettiamoci un calcio anche più legato alla fase difensiva dovremo prendere meno gol su questo non c'è dubbio speriamo che non vada tutto a discapito dello spettacolo e poi un'altra domanda è proprio quella che dice via girù via chier lo spogliatoio ne risentirà qui ibraimovic ringrazia il giornalista che fa questa domanda e poi dice sarà un milan molto più giovane e quindi dovremo aspettarci in questo calcio mercato colpi non di esperienza e allora bisognerà capire se sono giovani talenti o giovani nerba ma si trincera dietro un non ho capito piuttosto che un dico non dico per carità ibra è sempre ibra non ha paura di dire le cose però quelle presenze lì in prima fila che lo guardano come per controllarlo e allora lui l'ho visto un po tirato sì l'ho visto un po agitato un po emozionato altro che battere un rigore sotto la curva avversaria l'ho visto davvero emozionato quindi sarà un milan un milan più giovane ma il fatto è che lui ci tranquillizza dicendo che un vincente come gerry cardinale e poi ancora il fatto stesso che l'idea è quella di vincere dei trofei si tratta anche di capire che trofei vincere poi ordine franco ordine parla del degli italiani del fatto che il milan non abbia fatto riferimento ad un allenatore italiano beh io ho ripreso un articolo che è uscito ieri in cui si indica paolo fonseca come il sedicesimo allenatore straniero si parte dal nostro fondatore Herbert Kilpin inglese poi Offenheim che non è quello della bomba atomica che è austriaco Burgess Inghilterra Koning Austria Benaz Ungheria Joseph Viola Ungheria Garbut Inghilterra ancora Ungheria Ungheria Uruguay Puricelli Nils Lidholm Svezia e ancora Fatid Terim Turchia ce lo ricordiamo un po' meglio Leonardo Brasiliano Clarence Erdorf Olanda Sinisa Mijailovic Bacio Serbia e Paolo Fonseca Portoghese Portogallo vado veloce i 183 giorni che cosa significa beh voi sapete che chi mi segue lo sa io sono stato diversi anni in Francia a Parigi e quindi c'è in effetti una norma che dice che nel momento in cui un calciatore o scusatemi non un calciatore un dipendente insomma qualcuno che opera che lavora in Francia riesca a raggiungere i 183 giorni di rapporto di lavoro continuativo il diciamo c'è un'agevolazione fiscale ecco per non perdere questa agevolazione il tutto sarà formalizzato a due giorni dal ritiro a Milanello quindi diciamo che Fonseca sarà appunto ufficializzato nel senso contrattualizzato quindi i motivi fiscali erano questi a prendere un'agevolazione probabilmente per diciamo per il Milan ma in questo caso per Fonseca la regola dei 183 giorni non vuol perdere insomma questa agevolazione fiscale staremo a vedere quello che succede nel frattempo la buona notizia è che il Milan ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Charles Dechettelare e in questo caso ci sarà un piccolo sconto dopo una deroga di una settimana per trovare un accordo un piccolo sconto ma credo che lo sconto non sia oltre il milione oltre il milione di euro quindi salutiamo Charles Dechettelare prendiamo questi soldi e come dice Ibra speriamo che tutto quello che entra viene reinvestito per far vincere la squadra ho qualche dubbio però così parlò bella vista così parlò Zlatan Ibrahimovic segnatevi queste date infine 9 o 10 luglio ritiro a Milanello 20 luglio la prima partita amichevole rapid vienna milan a vienna 27 luglio milan manchester city a new york dunque il manchester city se non vado errato credo che quest'anno il real madrid dunque se non vado errato dovrebbe aver vinto una champions recentemente non lo so credo ma forse mi sbaglio perché giocava contro chi giocava il manchester city e ha vinto il manchester o l'altra squadra e non me lo ricordo fatemelo sapere tra i commenti capita il 31 luglio milan real madrid a chicago il 6 agosto milan barcellona baltimora e il 13 agosto trofeo silvio berlusconi a proposito comunque milan monza 13 agosto a proposito di silvio berlusconi il sindaco di milano ha negato la deroga ai 10 anni della scomparsa di un personaggio per potergli intitolare una piazza quindi non se ne fa nulla nessun nessuna piazza intitolata silvio berlusconi come era stato richiesto una piccola deroga è tutto ci sentiamo più tardi baci